Di libertà, diciamo, è una bella sensazione, l'ebbrezza del mare. Io personalmente, dopo una quarantena, dopo essere stato chiuso a casa, qui è solamente respirare un po' d'aria. Sì, sì, no, le manteniamo alle distanze, però è giusto così, è ovvio, è giusto. Poi è anche giusto andare al mare, ovviamente, perché Palermo è questa. Io dovrei stare a casa, in teoria, però così, una boccata d'aria così in famiglia si può fare. Però se tutti facciamo i bravi, io ce l'ho la mascherina, momentanea non l'ho messa perché comunque siamo fra di noi. Però sì, ci auguriamo che sì.